Come pure la Delegazione della Fiaccola Benedettina della Pace, con l'Arcivescopo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Bocardo, l'abate di Monte Cassino, Don Donato Ogliari, e l'abate di Subiaco, Don Mauro Meacci. L'invito ciascuno a farsi promotore della cultura della pace in ogni ambiente di vita. La Fiaccola Benedettina Propacet Europa 1 riprende il suo viaggio. L'edizione 2017, promossa da Norcia, Subiaco e Cassino, è partita ufficialmente in mattinata con la benedizione di Papa Francesco nel corso di un'udienza generale in Vaticano. Alla presenza dei tedofori e dei sindaci delle tre città, rispettivamente Nicola Lemanno, Francesco Pelliccia e Carlo Maria D'Alessandro, la Fiaccola è stata benedetta da Papa Francesco. Il 25 febbraio la tappa più carica di dolore. La Fiaccola sarà a Norcia dove tornerà ad ardere simbolicamente sulle macerie della Basilica di San Benedetto, crollata dopo il sisma del 30 ottobre. La scelta di questo luogo, oltre a rinnovare il messaggio di speranza, propone di prendere a modello la storia di Benedetto, che riuscì a ricostruire l'Europa dalle macerie. Il viaggio della Fiaccola proseguirà il 4 marzo a Subiaco, dopodiché verrà accolta dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a Bruxelles. L'intento è portare all'attenzione delle istituzioni europee i fatti di Norcia e del centro Italia, nella ricerca di un sostegno economico e morale per le popolazioni colpite dal sisma. Il 19 si proseguirà con Cassino. A pochi giorni dalle celebrazioni religiose e civile delle città benedettine del 20 e 21 marzo, le autorità europee rinnoveranno il trattato proprio a Norcia, nel contesto delle celebrazioni. Sarà l'occasione per ufficializzare anche l'amicizia di Cassino e Subiaco, con cui il centro Umbro firmerà formalmente un gemellaggio sottoscritto anche da Tajani.